Sto facendo la pipì, sono nel mio bagno, chiaramente non mostrerò niente per non essere... Ecco, vedete, sono nel mio bagno e volevo darvi delle nuove idee per fare quello che dovete fare, i vostri bisogni, con meno noia. Allora, è uscita la nuova cartigenica di Tiger con i giochi, quindi voi potete pulirvi il sedere e anche fare i giochi. Come potete vedere, adesso vi mostro, ci sono, scusate, ecco qui, ci sono tutti i vari giochi e quindi voi potete con la vostra cartigenica giocare con una penna e fare questi giochi divertenti, things to do while you poo, che vuol dire cose da fare mentre fate la pipì. E poi c'è questo, vedete che bello, che divertente, ecco qui. E in alternativa avete la cartigenica di Donald Trump con la quale potete pulirvi il sedere e sentirvi un po' un presidente degli Stati Uniti. Quindi, ciao ciao da Francesca, anche fare i vostri bisogni può essere un momento piacevole, creativo e rilassante. Ciao a tutti dal bagno di casa mia, ciao, buoni bisognini a tutti, tanto sappiamo che lo facciamo tutti, siamo tutti uguali in un certo senso. Buona giornata!